Il libro nasce dall'idea di dare un mio personale tributo alla memoria di papà e quindi è innanzitutto il racconto di Rocco Chinnici come padre, come uomo, oltre che come magistrato. Ovviamente anche la storia della mia famiglia e quindi poi anche la mia successiva, ma questo si inserisce nel ripercorrere anche un momento della storia, della storia piuttosto recente della nostra terra particolarmente dolorosa, cioè quel momento nel quale la mafia militarizzata allora decise di portare un vero e proprio attacco alle istituzioni uccidendo tutti quegli uomini che si stavano battendo per contrastarla. E quindi ripercorre quel momento l'uccisione purtroppo di tanti magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine, uomini politici, giornalisti, imprenditori, cioè un'epoca veramente difficile e triste della nostra storia dal 75 all'83 quando questo attacco all'istituzione culmina con la prima strage di mafia nella quale muore mio padre, i due carabinieri della scorta e il portiere del palazzo. Quindi c'è anche un ripercorrere quella parte di storia importante della nostra terra. Non è stato facile scrivere questo libro, ma non la scrittura in sé quanto prendere la decisione. Infatti dico scherzando che ho messo 30 anni per decidere e poi tre mesi per scriverlo. Perché in effetti il libro mi ha messo di nuovo di fronte ad un ripercorrere ecco i momenti felici della nostra vita familiare e quel ruolo importante che mio padre ha avuto nella vita di noi figli che era veramente una sicurezza per noi, un riferimento di sicurezza. Poi quella mattina terribile è quel dolore che nel tempo si evolve, cambia, che però ci ha portato e questa forse è la cosa per me la più bella di questo libro, ha portato oggi ad una consapevolezza che nonostante tutto quello che è accaduto da quel dolore, da quella sofferenza in qualche modo siamo usciti rafforzati. Rafforzati in quei valori e in quel modello che mio padre ha saputo trasmetterci. Quindi il libro vuole anche essere un messaggio di forza, un messaggio di coraggio, un messaggio di fiducia e non soltanto un ripercorrere la storia di un uomo che non ha esitato a sacrificare la propria vita per la nostra terra.